Abbasto sono stati denunciati in sei e il questore di Chieti annuncia anche un giro di vite, Gianni Quagliarella. La ragazzina lui incita, lui dopo qualche tentativo a vuoto spacca con un calcio il finestrino di un'auto in sosta. Poco lontano una ragazza viene messa in mezzo e presa a calci da alcune coetanee, tra le risate divertite di alcuni ragazzi. Tutto ripreso col telefonino e finito in rete per video diventati in breve, manco a dire, virali. Ci hanno pensato poi i carabinieri a identificare e denunciare in poche ore i protagonisti degli episodi di violenza, anche grazie alla videosorveglianza. È successo a Vasto Marina qualche giorno fa, ma i rischi della Movida fuori controllo si annidano dappertutto. È giusto non parlare tanto del dove, ma più del come. Intervenire, sicuramente gli esercenti cercheranno di fare la loro parte, ma da soli sicuramente non saranno in grado di risolvere un problema di carattere sociale che va risolto all'interno delle famiglie, dei punti educativi della nostra società. E c'è pure la violenza sulle cose. Vandalizzata e riparata a tempo di record la cornice di Mirella del Negro dedicata a Franco Battiato. Ci si mette la faccia per la foto ricordo con vista sul monumento La Bagnante. Per non dire delle vetrate, delle balaustre sul vicino lungomare Cordella, l'ideale è per il tiro al bersaglio. Il risveglio della Movida, che spesso si fa corrida, non sorprende le autorità di polizia. Non c'è da scherzare, il DASPO rafforzato Willi lascia il segno sui facinorosi, niente sconti, promette il questore. Ho iniziato ad adottare, senza sconti a nessuno, DASPO urbani o cosiddetti DASPO Willi a carico di soggetti che si sono particolarmente resi responsabili di gravi fatti.